In questi mesi siamo tutti alla ricerca di informazioni per capire quello che sta accadendo e capire anche come organizzare la nostra vita e le nostre giornate. E' sempre importante una corretta informazione, ma adesso è diventato vitale. Se c'è una cosa che possiamo salutare con favore del 2020 è la centralità che gli uomini di scienza hanno riconquistato nei canali di informazione. Ecco, più scienza nelle nostre vite vuol dire più conoscenza, vuol dire essere più attrezzati per capire i cambiamenti in atto e dove stiamo andando. Penso soprattutto ai cambiamenti climatici. C'è un importante evento da seguire per farlo. Il venerdì 27 novembre c'è la notte dei ricercatori, una kermess di spettacolo e scienza in cui i ricercatori ci renderanno consapevoli di tanti fenomeni. Ecco, seguiamole insieme. Venerdì 27 novembre su replay.it, la notte europea dei ricercatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.